Due giornate di grande sport, sabato e domenica a Viareggio con i grandi campioni del triathlon. Sì, finalmente siamo arrivati all'appuntamento tanto desiderato e l'abbiamo organizzato nel migliore dei modi. Siamo felicissimi perché il sabato faremo la distanza olimpica, che è la distanza poi che è quella più significativa e più importante. Abbiamo oltre 550 partenti nelle due giornate perché la domenica poi facciamo anche lo sprint. Cos'è lo sprint esattamente? Lo sprint è la metà della distanza dell'olimpico. L'olimpico è un chilometro e mezzo a nuoto, 40 in bicicletta e 10 a piedi. Mentre lo sprint, la distanza sprint è 750 metri a nuoto, 20 in bicicletta e 5 a piedi.